Ciao bambini! Io sono Peppa Pig e oggi ho un gioco fantastico da fare! Per chi vince la sfida, gli regalo questa gigante torta che ho preparato con la mamma! Mamma! Eccomi, eccomi Peppa! Sì, questa torta è buonissima! Ho messo delle arance, albicocche e un mertillo perché adoro i mertilli! La gara consiste nel trovare i miei amici! È un gioco di nascondino! Vero papà? Sì Peppina, sì! Ora faccio la magia che i tuoi amici diventano tutti invisibili e possiamo cercarli insieme! Sì ma cerco io e te, giusto? Così la mangio io la torta e la tu! Sì, va bene! Ti do un petto quando vinco! Ma vinco io, vedrai! Trovo io e tutti i miei amici! Peppina, vediamo ora! Faccio la magia! Oh, li vedo i tuoi amici! Anch'io li vedo, anch'io li vedo! Bambini, guardate, li vedete voi? Sono tutti qua ma si sono nascosti! Quindi ora dobbiamo trovarli tutti quanti! Iniziamo da quell'angolo! Papà, però non andare prima di me! Va bene Peppina, dai! Vai tu! Qua dentro c'è qualcuno? Andiamo! Ma ciao coniglietta! Ti sei nascosta là dentro! Ti ho vista, ti ho vista! Ehi, ci esci! Uffa, va bene! Mi hai trovato solo me ma noi ci siamo nascosti in sette, in sette, in sette! Ah, vedrai che trovo anche tutti gli altri! Proviamo! Ti aiuto se vuoi! No, non voglio che mi aiuti! Dopo devo dividere la torta con te! Io non voglio dividere con nessuno quella fantastica torta! Perché c'è anche Kiwi! C'è Kiwi, sì! C'è anche Kiwi! Va bene, io vado dal tuo papà! No, no! Tu devi stare vicino alla mamma perché ci ho trovato io! Uffa, va bene! Ciao Peppa! Ciao! Bambini, avete visto? Una l'ho già trovata! Ah, no, no, papà! Beppe, beppe! Oh, Peppino, dai! Vediamo qua dentro! Allora, Peppa Pig! Helter's Cutter! Uh, ma è una giostra! Uh! Vediamo qua sopra! Come si sale? Ah, devo salire da dietro! Aspetta! Oh, eccomi! Ci sto riuscendo quasi! Oh! Oh! Scivolo! Eh! Oh! Uno! Due! Oh! Dio, che fame! Devo mangiarmela tutta io con la torta! Ah! Ci ho trovato! Ci ho trovato! Ti stavi nascondendo qui, vero? Ora facciamo il scivolo! Uh! Uh! Anche io, anch'io faccio il scivolo con te! Yeah! Uh! È stato bellissimo! Vieni! Dai, scendi! Uh! Eccoci qua! Hai trovato anche me! Sei bravissima, Peppa! Grazie, lo so! A te ti do un pezzo di torta, perché tu sei carina e gentile! E non ti sei nascosta tanto bene! Uh! Ma non è vero! Mi sono impegnata tantissimo a nascondermi! Sei tu che sei brava a cercare! Grazie! Ora andiamo a vedere se mio babbo ha trovato qualcuno! Andiamo! Ma dove vi siete nascosti, piccoli bericchini? Oh! Ma io ci vedo! Penso di essere invisibile, bambini! Guardate! Sei nascosto qua dietro! Ehi, Zebrino! Esci! Uffa! Sì! Mi avete trovato! Au! Dai che ci aiutiamo ad uscire! Uh! Eccomi! Mi ero nascosto tanto bene, bambini! Vero che non si notava che sono là dietro? Haha! Sì! Ma io ti ho trovato! Quindi ora sei dalla mia parte! Fai la parte della mia squadra! Ma io voglio fare la parte di squadra di Peppa! Dove? Per favore! Popopi! Ma dopo lei vince e io non potrò mangiare la torta! E lì prendo io un pezzo dalla torta di Peppa! Per favore! Oh! Va bene! Non rinasconditela dietro e quando arriva Peppa le do un indizio che ti sei nascosto là dietro! Va bene! Grazie! Popopi! Mi metto qui! Ok! Peppina! Eccomi! Eccomi! Stavo accompagnando la mia amica che ho trovato nella mia squadra! Ok! Continua a cercare! Va bene! Ora vediamo questa bellissima casa delle pinnipon! Va bene! Io mi sposto! Cerco pure! Mmm! Vediamo! Qui dentro la porta c'è qualcuno? Ehi! Gattina! Ma ti ho trovato! Perché non esci fuori? Perché penso che tu ancora non mi hai vista! Ma ti vedo! Dai! Esci! Uffa! Va bene! Esco! Ciao bambini! Io mi arro... Au! 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 Peppina! Peppina perché mi spinge? Non volevo scusami! Io pensavo di aver nascosto tanto tanto bene la mia faccina ma voi mi avete visto lo stesso! Uffa! Sì! Tu sai se papà piga ha trovato qualcuno? No! Ho visto solo che Zebrina è andato nella tua squadra! Ehi! Allora noi siamo in più! Noi siamo in più! Papà! Sì Peppina! Sì! Hai visto? Così mangiamo tutti insieme la torta! Sì! Vado dai altri! Ciao! Andiamo a vedere se sull'altalena c'è qualcuno! Ah! Sì! Ehi! E io ti vedo! Ti ho trovato! Ti ho trovato! Uffa Peppa! Pensavo di avermi nascosta così bene! No invece! Vero bambini? Ti si vede da lontano! Sì! Scendi! Dai! Ehm... Un problema! Che problema c'è? Non riesco a scendere dall'altalena! Ah! Quindi non ti eri nascosta! No! Mi sono soltanto incastrata! Davvero! Aspetta ti do una mano! Stai tranquilla! Dammi la mano! Ah! No Peppa! Sono caduta lo stesso! Ma che aiuto è? Perdonami che sei tanto pesante! Ma sono più piccola di te! Come faccio ad essere più pesante? Ma va bene! Ora mangio un pezzo di torta e così diventi pesante! Ah! È vero! Torta! Non correre! Va bene! Va bene! Non corro! Ah! Bambini! Avete visto? L'abbiamo trovata sull'altalena! Ora dobbiamo fare tanta attenzione a questa casa delle pinnipon! Perché ci sono tantissimi posti da nasconderci! Guardiamo attentamente! Allora, dietro la stella non c'è più nessuno! C'è qualcuno! C'è qualcuno! C'è qualcuno! Bambini, guardate voi! No, non mi pare! Non c'è nessuno, vero bambini? Ora andiamo a guardare sopra! Sopra questa casina di stelle! Allontaniamoci un attimo! Papà, ma che ci fai là dietro? Oh, Peppino! Stavo per chiudere questa porta! Perché tu hai già trovato chi si nascondeva là dentro! Oh, io sono disperato! Non ho trovato nessuno! Mi sa che vinci tu! Ma non è vero, papà! Devi andare a cercare un altro posto! Eh, ma tu mi sa che non hai visto qualcuno! Come? L'hai dietro? Sì, sì! Vediamo! Nell'altalena non c'è più nessuno! E dentro la casa di Peppa? Vediamo, sul scivolo ci sono solo piccole cucinelle, un'ape, nella carota, neanche... Ma Zebrina, ma non ci hai vista! Perché non sei uscita quando giocavo qui davanti? Perché dovevi trovarmi! Non sono io che devo uscire, sei tu che mi devi trovare! Ah, è vero! Ma ci ho trovata! Bambini, mi hai trovata, avete visto? Vado nella tua squadra che... Ah, va bene, vai! Ok, ora andiamo in fantastica casa! E delle pene poi nel secondo piano, che è pieno di stelle glitterate! Saliamo su! Vediamo! Sull'altalena, su! Ah, vedo decisamente qualcuno! Anche tu vedi qualcuno, lo so! Ora vediamo, saliamo! Ok, sono salita! Ma tu che ci fai qua su? Ah, Beppa, mi hai trovata! No, devo scappare! Dove vado? Dove vado? Fermati! Ti ho già trovata! Ti ho già trovata! Uffa, va bene, allora scendo! Solo che stai attenta che è pieno di bricciole! Mi sono mangiato un biscotto prima! Va bene! Vado nella tua squadra! Vai, vai! E voi due che ci fate su quest'altalena? Hihi! Stavamo giocando! Guarda che bella! Uh! Scendete, scendete, che non c'è più nessuno! Ha vinto! Sì, Beppa, hai vinto! Papà, hai sentito? Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Lo sapevo! Uh! Beppa, sì! Hai vinto! Ora ti do la torta! Un attimo vado a prenderla! E ora mi mando la torta! Eccola! Tutta per te! Grazie, papà! Che torta gigante! Bambini, avete visto? Mmm! Me la metto qui! Bambini, se avete piaciuto il nostro episodio, mettete mi piace! E schiacciate il campanellino! Ciao, bambini!